Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! La notizia della separazione tra l'attaccante del Milan Alvaro Morata e l'influencer Alic Campello ha scosso i fan, nonostante le voci circolanti da tempo su una possibile crisi nella coppia. Recentemente la modella aveva confermato la separazione, respingendo con forza le insinuazioni su una presunta relazione extraconiugale del marito. Non esiste nessuna mancanza di rispetto né terze persone, aveva dichiarato su Instagram. Riguardo alle ragioni della rottura, Alice aveva attribuito la colpa a depressioni importanti, momenti di forte tensione durante l'europeo e alla pressione dei media. Un nuovo intervento della 29enne però ha ridato speranza ai fan. Ci sono dinamiche nostre che rimarranno tali, che ci hanno consumato, depressioni importanti, momenti di forte tensione dell'europeo e i giornali, milioni di situazioni personali. Se ci fossero state terze persone, non ci metterei la faccia così tante volte e non parlerei mai così di lui, ha scritto sul suo profilo Instagram. Alice Campello ha difeso nuovamente il calciatore spagnolo, padre dei loro quattro figli. I gemelli Alessandro e Leonardo, Edoardo e Bella. Non si merita tutte le schifezze che si stanno dicendo, ha affermato l'imprenditrice digitale con oltre 3 milioni di follower. Ha aggiunto, in una coppia possono esserci mille dinamiche diverse e non tutto deve essere raccontato o devono essere corna. Basta dire c'è senza nessuna prova. Tutto l'amore che avete visto è vero e esiste ancora, ma in questo momento avevamo bisogno di distanza e purtroppo, stupidamente e con molta immaturità, lo abbiamo detto prima del dovuto. Ma non ci sono mai state terze persone e non sono mai esistite prove.